La linea verde ho la fortuna di farlo per il terzo anno consecutivo per cui è un grande onore per me perché è un programma veramente storico, molto importante e insomma anche voglio dire che si addice a quello che poi sono le mie passioni quindi la natura, l'agricoltura, è tosto però io sono più tosta del programma Eh sì, adesso ci stiamo un po' rilassando, infatti mi vedete un po' abbronzata, non solo quello dei campi ma anche un po' di mare ci vuole, però stiamo già anche pensando a come sarà insomma la linea verde di settembre